La sensazione del velivo Eurofighter, sensazione che inizia da nord, quindi iniziate a guardare la vostra sinistra per Eurofighter che entra a 319-500 km orari e da lì, quando è giunta la posizione, il centro di display, si parte con il motor in post-combustione per una serie di manovre, si è un po' orizzontale e verticale che vi assicuro vi lascerà. Ecco il velivo Eurofighter, continuazione di crociera, intenzionale, minima quota autorizzata.